Il tema degli stranieri è un tema che certamente attraversa tutta la storia degli uomini perché da sempre le persone si spostano, migrano, vanno altrove. Quella che oggi è un'urgenza sociale è attestata anche nei testi della Sacra Scrittura, Antico e Nuovo Testamento. Ebbene in questo piccolo libretto, sono stato straniero su gestioni bibliche, cerco di mostrare come sia nell'Antico come nel Nuovo Testamento quando abbiamo una serie di esempi di persone che hanno vissuto questa situazione, questa condizione. Il primo è Abramo, colui che obbedendo a Dio si è fatto straniero. E poi c'è Ruth, la donna moabita, colei che con la suocera Noemi va appunto con lei a vivere a Betlemme come straniera, le moabita. E poi alcuni stranieri che hanno fatto per così dire carriera, e cioè il libro di Esther e il libro di Daniele. E infine Giona, il profeta che predica a Ninive in una città straniera e ostile. E la grande sorpresa è che i Niniviti si convertono, ma lui profeta resiste, anzi è pieno di risentimento nei confronti di Dio. Sono semplici medaglioni che cercano di far entrare un poco nell'intelligenza delle Sacre Scritture per comprendere come da questa parola viene a noi una profonda indicazione per il nostro tempo, per il nostro presente. Ci sono anche alcuni quadri che vengono dal Nuovo Testamento, in particolare dal Vangelo di Marco, a proposito degli incontri di Gesù con persone straniere, ma non lo anticipo, lo lascio al lettore perché possa scoprire da sé che cosa il Vangelo rivela da questo punto di vista. Buona lettura! Grazie a tutti!